A vent'anni dopo, ok, succede una cosa importante, che viene Mario Capanna. Ah, il mio amico Mario. Che era il leader del 68. Sì. E notare com'è l'ingresso, no? Sai, lui era politico, aveva l'accompagnatore. Allora io avevo dei casini inenarrabili, perché tu eri quello più calmo, paradossalmente, perché avevo i giganti che all'ultimo momento mi vengono a dire che si sono incazzati di nuovo tra di loro, non vogliono più partecipare al programma, perché poi i gruppi erano un casino tenendo insieme i gruppi. Quindi avevo quel casino lì. Avevo tutti questi che tornavano dopo tanto tempo, c'era i kishen, c'era di tutto. Arriva il segretario Mario Capanna, dice il signor Capanna vuole sapere a che ora c'è e le domande che vengono fatte. C'era giusto. Perché eri abituati così i politici. E io gli dico, sì un attimo. E lui mi veniva sempre dietro. E io ce l'avevo i giganti con Papa e si dice, io sto provando, ma questo Sergio e Checco ha litigato. Cercavo di mettere insieme tutto, perché era un casino quel programma, era un esperimento pazzesco. Il signor Capanna vuole sapere a che ora è. Allora ci avevo detto, alle 10.23 gli chiedo com'era il 68. Ah bene, ed è andato via. Ma io mi sono inventato. Dopodiché lui si è divertito la mattina il programma, addirittura è venuto, questa è una foto, è venuto sul palco. Eccoti qua. Ti ricordi che io gli ho detto, tu fai il giornale radio e di le cose che allora il giornale radio non diceva. Lui non gli pareva vero. È vero. Sì, la contestazione è andata. Allora, l'idea del giornale radio, ieri 29 settembre, è di almeno 10 persone. E di chi è l'idea? Io mi ricordo Lucio che mi guardò e mi disse, oh bella st'idea del giornale radio, oh bellissima. Si vede che gli avevo riportato qualcosa di qualcun altro. Che diceva gli altri. 10 persone. Quindi il giornale radio ha l'idea tua. Ma non sono più sicuro, ma credo proprio di sì. Eh beh ma certo, perché a forza di sentire le bugie degli altri, uno si mette in dubbio e dice forse non c'è il mio. Ma non solo, non solo. Viene? Ventiniamo, ventiniamo. Quella di Capanna ormai. È diventata quella di Capanna il 29 settembre. Puoi farlo? Sì, un pelino. Un pelino. GR1. Ieri, 29 settembre. Seduto in quel caffè io non pensavo a te Guardavo il mondo che girava intorno a me Poi d'improvviso lei sorrise E ancora prima di capire Mi trovai sotto braccio a lei stretto Come se non ci fosse che lei Vedevo un mondo che non mi ricordo più Allora dunque, devo dire che 29 settembre è secondo me la canzone che ha segnato la rivoluzione nella storia della canzone italiana Sì, Renzo Albari addirittura sostiene che abbia decapitato il beat, che l'abbia finalmente ucciso, non so se sei d'accordo con lui, io di Renzo mi fido perché lo ritengo un grande. No, 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 ma te lo dico io. Allora prima di 29 settembre la stragrande maggioranza dei brani musicali che venivano fatti erano cover di brani stranieri. 29 settembre è intanto un'idea, come l'hai detto anche tu prima, è un film, non è una canzone, ok? Perché mettere un giornale radio, è stata un'idea, adesso non lo so, in dieci persone hanno detto che era un'idea loro, se non sbaglio, giusto? Anche di più forse Comunque un'idea tua di mettere un giornale radio Credo, sai che ci sono dei miei colleghi artisti? Una ultimamente perché sai che per il compleanno di Lucio Battisti degli 80 anni Mi hanno intervistato in tanti C'è stato un mio collega, amico Che ha scritto da qualche parte sui social che io racconto delle grandi palle e che sono un grande falso E' incredibile, come tu parli di Battisti c'è qualcuno che ti aggredisce Quindi io Battisti, non lo so, lo conoscevo appena Comunque dicevo che il 29 settembre ha rivoluzionato la canzone italiana C'è stato il primo brano fatto da autori italiani, attenzione Perché se noi, è incredibile, le persone non lo sanno Ma la stragrande maggioranza, ma anche Scende la pioggia di Morandi è una cover Erano quasi tutte cover allora, tutte canzoni straniere di cui si... Beh, avevamo passato degli anni a godere di questi 45 giri che arrivavano dall'America Dall'Inghilterra con dei pezzi straordinari E noi con i primi giradischi, come facevamo a non fare delle cover? 29 settembre, è stato veramente un momento assolutamente rivoluzionario Quando uscì quel disco, io rimasi stupito Al di là che non sapevo che la copertina fosse stata fatta da Schifano Però, al di là di questo che è la foto di Schifano È un disco della Madonna Cioè, è la prima volta che... E poi dietro è Dall'amore che nasce l'uomo Che è il brano preferito da Maurizio E lo odi Allora mi dici che lo odiavi questo pezzo, è vero? Ma lo odiai perché non eravamo pronti In una televisione diretta ci dissero Fate una canzone, perché non fate una canzone? E Franco dice Facciamo Dall'amore che nasce l'uomo Ragazzi, non la sappiamo fare con le voci, eccetera L'abbiamo fatta lo stesso E l'ho odiata Ah, l'hai odiata? Eh sì, perché è venuta male Ma chi ha scritto Dall'amore che nasce l'uomo? Guccini, io modificato Guccini Ecco Comunque ti dicevo che questa è una canzone meravigliosa È lo spartiacque della storia della canzone italiana Cioè la canzone italiana diventa canzone italiana Chi interpretava questa canzone è chi portata quattro Dici niente Dici niente Grazie a tutti Grazie.